Secondo intervento chirurgico al femore nel giro di due giorni per Carmelo Nicotra, il 35enne che nella serata di martedì è stato bersaglio in via Torino a Favara di una autentica pioggia di proiettili. Il favarese non è in pericolo di vita, l'uomo resta naturalmente ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e non è sottoposto ad alcun tipo di controllo e sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Nelle prossime ore sembra verosimile che il legale di fiducia di Nicotra, l'avvocato Salvatore Cusumano, potrebbe depositare, indirizzandola al procuratore capo Luigi Patronaggio, al sostituto che è titolare del fascicolo di inchiesta aperto, Federico Panichi, la richiesta di predisporre un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne per il 35enne che è stato vittima di un tentato omicidio. Le indagini dei carabinieri della tenenza di favare e della compagnia di Agrigento vanno intanto avanti e sono inevitabilmente coperte dal più stretto riservo. Sembra però scontato che in questa fase i militari dell'arma attendano l'esito degli esami dello stub, cioè il tampone adesivo che raccoglie eventuali tracce di polvere da sparo sulle mani. Allo stub Carmelo Nicotra è stato sottoposto nella mattinata di mercoledì e il tampone è stato, come sempre avviene nei casi di esami del genere, inviato a Risti di Messina. L'esame viene ritenuto fondamentale per meglio inquadrare cosa sia accaduto martedì sera in via Torino, nei pressi della più nota piazza Don Giustino. Inizialmente, nelle concitate ore successive al tentato omicidio, era stato ipotizzato che fosse stata una sparatoria fra due gruppi rivali, ma se l'esame dello stub dovesse dare esito negativo, arriverebbe la certezza che il 35enne si è miracolosamente salvato scappando.